Tabaccheria Cellammare, di Marco Cellammare, presso Centro Commerciale Santo Mai, Gandoli, Leporano. Servizi vari, Speed, Emissione Carte Money, Pagamento F24, Tributi, Imu, Tari, Tasi e Bollettini Pustali, Money Transfer, Western Union, RIA. E ancora, Corner SNAI, Lotto, Super Enalotto, 10 e Lotto, Sala Slot. Convenzionata con Banca 5 e Banca Intesa per prelievi con Bancomat. Prodotti selezionati, sigari originali di altissima qualità, come sigari cubani, dominicani, nicaraguensi, zinodavidoff, italico superiore piramide, italico superiore la mia selezione, partner Icos, con servizio di assistenza, profumi, articoli da regalo, sempre al servizio del cliente per ogni sua esigenza. Grazie a tutti.